Il campionato di Alba Triatica Il campionato di Alba Triatica Il campionato di Alba Triatica Al trentesimo si sblocca il match Colasante sfrutta un lancio da dietro Prende posizione e batte Verissimo Con un tiro ravvicinato Con le riprese di Mario Giacchetta Andiamo al secondo tempo Al settimo Sparvoli con una prodezza da calcio di punizione Fa 0 a 2 E doccia gelata per Alba Che però risponde E prova a riacciuffarla con Branno Ma il suo diagonale da buona posizione Finisce tra le braccia di Palena Poco dopo Passamonti calcia dal limite, la palla sorvola l'ingrocio dei pali. Al ventisettesimo planamente ha l'occasione per chiuderla, ma Verissimo risponde presente. Al trentatresimo la riapre l'Alba, con un colpo di testa di Censori, sulla pennellata precisa di Icramella. Nel finale forzing al Benz. Prima Passamonti dialoga con Censori e fa partire un destro pericolosissimo, ma Palena la toglie dall'incrocio. Nell'ultimo minuto di recupero, doppia clamorosa occasione per Fabrizi, che su un cross di Stefano, prima impegna l'estremo ospite e poi calcia fuori, con il sinistro da ottima posizione. Vince lo spoltore 1-2 all'Alba e Salamagra, consolazione di averci provato fino alla fine.